Ciao ragazzi, questo qua è il livello 71, la soluzione del livello 71 di 100 floor, che è stato l'aggiornamento c'è stato e praticamente su questo livello c'è l'ascensore con questa immagine e qua ci sono tre simboli e al di sopra di l'ascensore ci sono tre caselle, in queste tre caselle noi potremo inserire un simbolo a scelta però dovremo mettere l'opposto che c'è il simbolo al di sotto, quindi qua ci sono due linee spezzate e una intera quindi qua andremo a mettere due linee intere e una spezzata ok, può essere anche il contrario e qui invece ci sono tre linee spezzate, quindi andremo a mettere tre linee spezzate qui invece ci sono due linee spezzate e una intera e qui invece andremo a mettere due linee intere e una spezzata ciao a tutti ragazzi